Ciao a tutti! Oggi vi parlo di un nuovo prodotto, le creme alla vitamina C. Le creme alla vitamina C hanno una serie di proprietà, hanno specialmente proprietà antiossidanti, perciò rendono la pelle molto più giovane, chiara, riducono la flaccidità, i segni dell'invecchiamento, ma hanno una serie di problemi. Per esempio, di solito ingialliscono, perciò tu ti metti la crema e 10-20 minuti dopo vedi una patina un po' gialla, per esempio. E oggi ho un nuovo prodotto da proporvi, che si chiama Pur Se, della Adatina. È una crema alla vitamina C, ma è mousse, ed è sbiancante, schiarente, elimina la flaccidità, i segni di espressione della pelle, ma è delicatissima, non ingiallisce e al contrario schiarisce. Io quando ho cominciato ad usarla avevo qualche macchietta scura sulla pelle del viso, che oggi semplicemente non ho più, quindi indicatissima. Adesso vi faccio vedere come si applica. Risultati dopo un mesetto che uso questa crema, la applico al mattino e alla sera. Riduzione della flaccidità della pelle, meno occhiaie, riduzione delle borse sotto agli occhi, non me l'aspettavo ma è successo. Sono sparite macchiette scure che avevo sulle guance. Ah, indicatissima, veramente. È una crema che non è testata sugli animali, dermatologicamente testata, ve la indico tantissimo ed è facile da trovare. Si trova nelle migliori farmacie e nel negozio online di Adatina. E adesso ciao e alla prossima!